Udite quelle parole, Bilbo si sentì rimescolare rendendosi conto che la fortuna era dalla sua parte e gli forneva un'occasione immediata per tentare il suo piano disperato. Seguì i due elfi che entrarono in una piccola cantina e si sedettero ad un tavolo dove erano posati due grossi fiaschi. I due cominciarono subito a bere e a ridere allegramente. Una fortuna straordinaria sembrava assistere Bilbo. Doveva infatti essere un vino ben forte per storvidire un elfo silvano. Ma quel vino, a quanto pareva, proveniva dall'inebriante vendemmia dei grandi giardini di Dorvinion. Ed era dunque destinato ai banchetti del re, non certo ai suoi soldati o ai suoi serbi. E andava bevuto in coppe più piccole, non dei larghi boccali del maggiordomo. Di lì a poco il capoguardia cominciò a dondolare la testa, poi la poggiò sul tavolo e in pochi istanti si addormentò. Il maggiordomo continuò per un po' a ciarlare e ridere da solo, come se non si fosse accorto di niente. Ma presto anche lui abbandonò la testa sul tavolo e si addormentò profondamente. Allora lo hobbit sgattagliolò nella stanza. Dopo qualche istante il capo della guardia non aveva più le chiavi. E Bilbo trottava via a gran velocità attraverso i passaggi che portavano alle celle. Quel grosso mazzo di chiavi gli sembrava molto pesante e spesso si sentiva il cuore in gola, nonostante l'anello. Perché non poteva impedire alle chiavi di sbattere di tanto in tanto con un tintinio così forte da farlo tremare di paura. Per prima cosa aprì la porta di Balin, premurandosi di richiuderla appena il nano fu uscito. Balin era al colmo della sorpresa. Come potete immaginare. Ma pur essendo felice di uscire da quell'opprimente cameretta di pietra, voleva fermarsi per chiedere a Bilbo cosa avesse intenzione di fare e quali fossero i suoi piani. No, non c'è tempo, disse lo hobbit. Seguimi e basta. Dobbiamo restare uniti e dun rischiare che ci separino. Dobbiamo scappare o tutti o nessuno. E questa è la nostra ultima possibilità. Se ci scoprono solo il cielo sa dove vi metterebbe il re? Stavolta incatenati mani e piedi, immagino. Non discutere. E fa come ti dico. Così andò di porta in porta finché il suo seguito non diventò dodici. Nessuno dei quali particolarmente agile. Un po' per il buio e un po' per la lunga prigionia. A Bilbo balzava il cuore in petto ogni volta che uno di loro ne urtava un altro. O borbottava o bisbigliava nel buio. Accidenti a tutti. A questo ti assona nesco. Esclamava tra sé e sé. Ma tutto andò bene e non incontrarono nessuna guardia. Il fatto è che quella notte nei boschi c'era una grande festa d'autunno e si banchettava anche nelle sale superiori. Quasi tutto il popolo del re, quasi tutto il popolo del re, stava dandosi ai festeggiamenti. Infine, dopo essere andati avanti a lungo alla cieca, arrivarono alla segreta di Thorin, che si trovava nei sotterranei più profondi e per fortuna non lontana dalle cantine. Parola d'onore, disse, quando Bilbo gli sussurrò di uscire e di unirsi ai suoi amici. Gandalf ha detto la verità, come al solito. A quanto pare sei proprio un bravo scascinatore, quando è il momento. È più che certo che saremo per sempre i tuoi debitori, qualsiasi cosa succeda. Ma ora che si fa? Bilbo vide che era venuto il momento di esporre la propria idea, per quanto poteva. Ma non era sicuro di come i nani l'avrebbero presa. E i suoi timori si rivelarono pienamente giustificati, visto che non lo gradirono affatto e cominciarono a brontolare rumorosamente, nonostante il pericolo che corrivano. Finiremo tutti ammaccati a pezzettini. E annegheremo di sicuro. Si lagnarono. Credevamo che ti fosse venuta un'idea sensata quando sei riuscito a impossessarti delle chiavi. Questa è una pazzia. Benissimo, disse Bilbo avvilito e anche abbastanza seccato. Tornatevene nelle vostre celle, allora. Così vi chiuderò dentro di nuovo e potrete starci comodamente seduti a escogitare un piano migliore. Ma non credo che riuscirò a impadronirmi delle chiavi una seconda volta, ammesso che mi venisse voglia di provarci. Questo fu troppo per loro e li fece calmare di colpo. Alla fine ovviamente dovettero fare come diceva Bilbo, perché era chiaramente impossibile per loro cercare scampo nelle sale superiori. o farsi largo a forza tra battenti che si chiudevano per magia. Ed era stupido star lì a lagnarsi in quei cunicoli finché non li avessero catturati di nuovo. Perciò, seguendo lo Hobbit, strisciarono fin nelle cantine più basse. Passarono davanti ad una porta da cui si scorgevano il capoguardia e il maggiordomo continuare beatamente a russare con un bel sorriso dipinto sul volto. Il vino di Dorvignon fa dormire e sognare cose belle. Il giorno dopo ci sarebbe stata un'espressione diversa sul viso del capoguardia, anche se Bilbo prima di proseguire si intrufolò e generosamente gli rimise le chiavi alla cintura. «Questo gli risparmierà una parte dei guai che lo spettano», disse tra sessi il signor Beckins. «Non è stato cattivo con i prigionieri e si comportava bene. E poi, vedere le chiavi li confonderà. Penseranno che abbiamo dei gran poteri magici per attraversare tutte queste porte chiuse e sparire». «Sparire». «Sparire! Bisogna che ci diamo da fare! E in gran fretta, se vogliamo riuscirci!» A Balin fu ordinato di sorvegliare la guardia e il maggiordomo e di dare l'allarme se si muovevano. Gli altri entrarono nella cantina attigua, quella con la botola. Non c'era tempo da perdere, tra non molto come Bilbo ben sapeva, qualche elfo avrebbe ricevuto l'ordine di scendere per aiutare il maggiordomo a gettare dalla botola i barili vuoti nel ruscello. In effetti i barili erano già allineati sul pavimento e in attesa di essere spinti fuori. Alcuni erano da vino. E non servivano a molto, poiché non si potevano scoperchiare facilmente senza far rumore. Né si poteva poi richiuderli. Ma in mezzo ce n'erano altri, che erano stati usati per portare al palazzo. Altra roba. Burro, miele e via dicendo. In poco tempo riuscirono a trovarne tredici, abbastanza grandi da contenere un nano ciascuno. Alcuni erano perfino troppo larghi. E mentre si calavano all'interno, i nani pensarono ansiosamente alle scosse, agli urtoni che avrebbero preso... lì dentro. Anche se Bilbo fece del proprio meglio per trovare paglia e altra roba per imballarli, nella maniera più comoda e consentita dal tempo che stringeva. Alla fine dodici nani furono sistemati. Thorin aveva fatto un sacco di problemi e adesso si girava e torceva nel suo tino ringhiando come un grosso cane in un piccolo canile, mentre Balin, che fu l'ultimo, fece un sacco di storie per le prese d'aria e disse che soffocava, anche prima che venisse fissato il coperchio. Bilbo aveva fatto del proprio meglio per tappare i buchi sui lati dei barili e fissare tutti i coperchi con la massima accuratezza. E adesso era rimasto di nuovo solo, correndo di qua e di là, dando gli ultimi tocchi allo stivaggio e sperando che nonostante tutto il suo piano riuscisse.